Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 6, x-quadre 2, x-quadre, i, 2, 3, no, no, x-1, ne, paucano solo quchete, il vi 2, ax. io sono andami x quare plus 2x plus 3 tala parte sasera da ovo la parte sasera di x minus 1 tala parte sasera di qua P of 1 tala x che ha dato 1 come tariva tala x to square rame 1 to square plus 2 in 2x x rame una 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 plus 3 tala io di 1 to square la 1 plus 2 in 2 1 2 plus 3 alice 6 qie polynomial x minus e ora faco e tango sasera kiette . tungo sasera b e 6 qie rame un kette x core r minus 5x plus 2 qie rame unutarata x minus 3 e ho uutarata rame unutarata x core r minus 5X plus 2K rado PA ruta d'auto X minus 3 è l'e P of 3 equal to 0 stelle XZ rame 3 rame 3 rame 3 rame minus 5X 5X 3 plus 2K equal to 0 3 rame 9 minus 5 5X plus 2K equal to 0 9 9 minus 6 plus 2K equal to 0 2K minus 6 plus 6 K same nye 2 yunga rame 4 rame 4 3 XQ minus 1 x minus 1 equal to dash xQ minus 1 x minus 1 amaya kulek si paribra xQ minus 1 divide by x minus 1 togolta wana kum hangi lele xQ mane x rame q minus 1 kulek maleo 1 rame q divide by x minus 1 yi hegelelai eq minus 2bq sutra usche e minus 1 golek 2 square plus eb plus b square aliee minus d mane x minus 1 golek 2 square x square a la x2 square plus eb inigone x in 2 yunga plus eb inigone x plus eb inigone x2 dhara bai x minus 1 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 plus eb plus 1 2 x2 minus 3x plus 1 golek upa dhara dash 2 x2 minus 3x plus 1 maji bandali hoji minus 3x dhara minus kiri t x minus x plus 1 2 x2 minus 2x rube 2x kama na il projecto c'è un code 12 12 3 la la noi numero da un'uso X-1 così abbiamo 2X-2. P of A è un'e buon volume è, quindi P of 3 uguali 0 è, P of A è un'e buon, e poi abbiamo un'e buon. Se qui P of A è uguali 0 è, allora se P of A è uguali 0 è, quindi P of A è uguali 0 è, quindi P of A è uguali 0 è, Sì, D è la x-a, e ha un'appadato, a è 3-3, quindi x-3 è un'appadato, P 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 ora come x è meno 3x0 0 da io perché poi non è una linea greva e poi non è un gravo giro siamo al grevo x è meno 10 uguale a 0 ma tornate qui è x comune ora è x minus 3 uguale a 0 x uguale a 0 x minus 3 uguale a 0 x uguale a 0 3 si portiamo il x2 0 2 3 P 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